Riusciamo a portare, come si dice, la barca in porto. Rallenta, Chico, devi rallentare! Nasce così, nel rispetto delle regole anti-Covid, questa storia al femminile, con quattro amiche che si ritrovano a tempo e cercare di essere felici. Un sentimento che, attraverso la leggerezza della commedia, parla a tutti. Spero che ci possa essere una rinascita, ecco, e ci credo fortemente.